ciao a tutti amiche amici bentornati e bentrovati nel canale di mamma formica e gigiolino oggi nuovo video il video di oggi è una caccia alle uova quindi il protagonista sarà nicolò faremo una bellissima caccia al tesoro per casa come quella di ovidio avevamo fatto anche l'anno scorso se non aspettate anche come quella di ovidio che adesso ci prepariamo partiamo subito con la nostra caccia alle uova Nicolò a leggere il primo indizio andiamo leggi indizio numero uno se la caccia alle uova deve partire tutti gli indizi devi seguire vestiti lì l'abbiamo in una scatola che devi vedere non è una favola cos'è il bagno no cos'è la scatola dove l'abbiamo i vestiti la scatola in cui l'abbiamo i vestiti e il cestino in cui l'abbiamo i vestiti dove si lavano si lavano nella lavatrice e quindi dove deve andare a cercare alla lavatrice c'è qualcosa che c'è scritto che c'è scritto che c'è scritto che c'è scritto c'è ancora 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 ora passiamo al secondo ho quattro zambe non non cammino con la mamma fa il riposino è in certo andiamo aspetta aspetta qui la mamma fa il riposino qui la mamma fa il riposino solo sotto il letto non è solo sotto hai fatto cadere sotto il letto hai fatto cadere sotto il letto qua è caduto vieni qua fai vedere il prossimo in un'altra scatola quando la apri senti tanto freddo ora tocca a te io sono qui che ti attendo è il frigorifero e questi quali lasci guarda bene nel frigorifero anche i cassetti puoi aprire se ci sono cassetti cosa c'è lì eccolo che c'è scritto le indossi nei piedi per uscire sui marcati le scarpe e quindi dove le conserviamo le scarpe non dentro le scarpe che si metteva che ti mettevano dove sono le scatole delle scarpe dove sono le scatole delle scarpe acqua 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 c'eri vicino prima sei vicino sì l'altro posto fuori lino sì un altro posto dove teniamo le scarpe lì sopra teniamo le scarpe dove potremmo tenerle lì qua oppure 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 qui lì le scarpe teniamo lì forse lì prova lì dove sei prova ad aprire qualcosa prova ad aprire qualcosa nei cassetti metti le scarpe tu lì le scarpe ci stanno mi hai mai visto mettere le scarpe aspetta con l'idea qui sempre i cassetti sono eccolo 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 che dice una merenda su menta colorata e piena di vitamine e fanno parte mele banane e fragolini cosa può essere può essere il costo della cucina cioè dove perché mettiamo lì lì è vediamo ma questa era facile diciamo così nel soggiorno ci sono sedie e guardare anche le tele al culo chiama so fa forse questo ti aiuterà cos'è il soggiorno il soggiorno il soggiorno non il soggiorno oh mio dio e dov'è guardate qui ho fatto una barriera ma cosa può essere qui può essere sotto la coperta non è quello dico no ecco a che inizio siamo arrivati dopo tanta cioccolata laveremo bene i denti per evitare che siano cadenti quindi dove in bando di nuovo io ti ho messo un indizio per farti capire dove potrebbe essere lì dentro ci entrano le uova può essere anche sotto dove ci sono quello vicino dentro qualche sportello dentro qualcosa non può essere non può essere non può essere non può essere guardate dove è eh è dentro è dentro ho parlato con chi sta guardando il video voi lo vedete io pure ma lui no ho provato ad aprire qualche altra cosa scusa ma dove sono gli spazzolini da denti dove li ho messi gli spazzolini e quindi dove sono l'ultimo indizio non è facile ti avverto ma ormai sono esperto che il regalo puoi trovare in una scatola molto calda e devi cercare cos'è la scatola molto calda questo non lo so cos'è la scatola molto calda Nicolò una scatola molto o vicino a una scatola molto calda qual è la scatola molto calda che c'è a casa il forno devi vedere no nel forno non l'ho messo perché era caldo anche qui io lo vedo e lui no ha trovato li ho trovato cosa hai trovato in questa caccia tesoro abbiamo trovato due uova bellissime due uova grandi e manca un uovo piccolo dove l'ho lasciato manca un uovo gilder manca un uovo io voglio mangiarmi questo ok prendete il premio oh sono Hulk cosa troverò mai dentro lì qui cosa abbiamo trovato uuuu cos'è non ho capito portacuffe sicuro gli altri li apriremo poi come si chiama la cosa facciamo noi eh in una svuota pasqua vabbè svuota pasqua è la nuova cosa la nuova cosa saluta dai eh ragazzi se il video vi sia piaciuto lasciare eh lasciate un mi piace iscrivetevi e iscrivetevi anche il mio canale che mia mamma me lo mette in descrizione un bacio un bacio alla prossima e buona pasqua ci vediamo martedì per il prossimo video dopo i saluti di Nicolò ecco anche i miei vi mando un bacio un abbraccio vi faccio tanti auguri di buona pasqua e ci vediamo al prossimo video ciao ciao